Ben ritrovati a voi tutti cari amici da social follower dal vostro deluxe in fase di registrazione di questo video, quindi praticamente in serata di domenica 11 agosto dove ricordiamo per chi poi vedrà questo video che sarà reso pubblico domani dove sicuramente questo grande secondo appuntamento italiano con la WWE su D-Max grazie a Michele Posi e a Luca Franchini altra tappa importantissima che sta veramente riportando la passione per la WWE Fasti del 2006-2007 dando il giusto merito a questi due professionisti di grande calibro come appunto il Goz e il Bardo e questo video voglio impreziosirlo con oltre il loro impegno che hanno messo che vedremo questa sera 11 agosto su D-Max in italiano di SummerSlam 2024 con le loro voci ma con le notizie però non ufficiali di un possibile premium live event pay per view tutto in Italia dalla WWE noi ovviamente ci auguriamo un annuncio ufficiale quanto prima quindi viva il Bardo Michele Posi, il Godzilla Luca Franchini, la WWE continuiamo a sostenere il movimento ciao a tutta la prossima, ciao